due cose l'appello ad allacciarsi le scarpe è un appello a morire sostanzialmente ti allacci le scarpe non ci riesci provi a fare il doppio nodo provi con l'asola provi col marinato doppio provi col carpiato in quarta calengola provi con la saltapicchia del cazzoppolo muori di frustrazione oppure fai morire ti allacci le scarpe arriva uno che sta guardando il cellulare e non ti vede inciampa su di te cade lui, lei muore questo è